Le tumefazioni testicolari, le tumefazioni scrotali rappresentano uno dei motivi di maggiore apprezzione per i pazienti perché spesso si associa il gonfiore dello scroto dei testicoli al tumore del testicolo. Per fortuna non è sempre così, nel senso che una tumefazione, un ingrossamento dello scroto in moltissimi casi non è minimamente correlabile con un tumore. Ad esempio una delle cause più frequenti di ingrossamento dello scroto, di tumefazione dello scroto è l'idrocele. L'idrocele è una raccolta di liquido all'interno del testicolo. In particolare noi sappiamo che lo scroto è il nostro contenitore dei testicoli. I testicoli sono avvolti da una membrana che è di fodera che si chiama vaginale comune del testicolo e che rappresenta un pochino la fodera che noi mettiamo intorno ad un cuscino per proteggerlo, per ripararlo. Questa tunica vaginale funziona nello stesso modo, cioè è una guaina di rivestimento del testicolo che avvolge sia il testicolo che l'epididimo all'interno dello scroto e che quindi assicura la scorrevolezza, la mobilità del testicolo all'interno della borsa scrotale. Per molte ragioni, generalmente ragioni di tipo infiammatorio dopo un'infezione, dopo uno sforzo, dopo un'infiammazione, può capitare che il liquido contenuto all'interno della sacca che riveste il testicolo, cioè appunto all'interno di questa tunica vaginale, questa fodera del testicolo, possa aumentare. E può aumentare anche in modo così importante, così notevole, da costituire una causa di ingrossamento dello scroto. Normalmente abbiamo una certa quantità di liquido all'interno di questa tunica vaginale, proprio per assicurare il movimento della tunica rispetto al testicolo. Ma il problema nasce appunto quando questo liquido tende ad aumentare molto rapidamente in quantità abbondante. L'idrocele di per sé non è un problema per la salute del testicolo, a meno che sia così abbondante, così in tensione da schiacciare, dislocare il testicolo. In molti casi un uomo può convivere con un idrocele di modesta entità quando è che diventa particolarmente difficoltoso o quando diventa indicato poi indicata la correzione chirurgica. Fondamentalmente quando la dimensione di questo idrocele è così importante da costituire un ingombro significativo durante le attività quotidiane. Intendo camminare, correre, accavallare le gambe, quindi problemi molto pratici nella vita quotidiana. L'idrocele può essere monolaterale o bilaterale, cioè può coinvolgere soltanto un testicolo nella borsa scrotale o può coinvolgerli tutti e due. Chiaramente quando coinvolge tutte e due gli emiscroti la tumefazione sarà ancora più importante, il fastidio peggiore. Esiste un esame tipico che permette, una valutazione obiettiva tipica che permette durante la visita di discriminare una tumefazione da idrocele rispetto ad una tumefazione di altra natura, che è la cosiddetta traslucenza, il segno della traslucenza che è quello che i vecchi semeioti, i vecchi urologi insegnavano nei banchi dell'università. La traslucenza consiste semplicemente nell'applicare una fonte luminosa dietro lo scroto e vedere come si comporta il testicolo. Nel senso che se la massa, se la tumefazione dipendesse da una massa solida, chiaramente la luce non riesce a passare e di conseguenza lo scroto non subisce nessuna variazione. Ma se la tumefazione dipende da un contenuto di liquido, allora la luce che investe il liquido verrà aumentata, amplificata. Passatemi il termine, un po' come se accendessimo una bajur, per cui la luce diffonde. Anche nel caso dell'idrocele, quando si applica una fonte luminosa sotto lo scroto, si vede davvero lo scroto che si illumina come la bajur, come dicevo. Per quale motivo può venire un idrocele? Nella nostra pratica clinica ci sono due grossi motivi molto frequenti. Da un lato il cosiddetto idrocele idiopatico, che nel nostro linguaggio medico è un modo molto elegante per dire che non sappiamo da dove viene, cioè non c'è una causa scatenante vera e propria. Generalmente si tratta di quelle condizioni secondarie, ma uno ha sforzi cronici, ha esercizi fisici magari intensi che causano un po' di infiammazione a livello genitale o semplicemente perché doveva venire, cioè senza una causa apparente. In questi casi l'idrocele tende a crescere in molti mesi, se non addirittura in molti anni, senza dare dolore o particolari sintomi. Un'altra causa frequente invece di insorgenza di idrocele, anche in tempi brevi, è quella secondaria ad un intervento chirurgico a livello inguinale. Due tipicamente sono le condizioni che possono dare questa conseguenza, la riparazione di un'ernia inguinale oppure la correzione, la legatura chirurgica del varicocele. Mi spiego. Quando si ripara un'ernia inguinale, si fa un'incisione appunto a livello inguinale, si mette una retina di protezione del canale inguinale per rinforzare la parete di questa struttura, può capitare come conseguenza che la fibrosi legata a questa retina possa alterare anche la circolazione linfatica, quindi i liquidi che normalmente dal testicolo, dallo scroto vengono drenati verso l'inguine, possono ingolfarsi, passatemi il termine, e aumentare mano a mano la dimensione dello scroto. Allo stesso modo può succedere che dopo una legatura chirurgica, l'intervento tradizionale che si faceva molti anni fa sul varicocele, per la correzione del varicocele, insieme alle vene spermatiche e le vene del varicocele si leghino anche i vasi linfatici che passano nel funicolo spermatico e questo nello stesso modo dell'ernia può contribuire a ridurre la circolazione dei tessuti linfatici di drenaggio e quindi aumentare nel tempo la quantità di liquido all'interno dello scroto. Come si ripara l'idrocele? L'idrocele viene riparato, viene corretto in un solo modo, con l'intervento chirurgico che si chiama resezione della tunica vaginale. Molti pazienti chiedono, ma non possiamo aspirarlo? Tecnicamente è di una banalità estrema aspirare un idrocele, tuttavia se noi aspiriamo con una siringa il liquido contenuto nello scroto, nel giro di pochissimi giorni questo liquido tende a ricrearsi, a riformare l'idrocele esattamente nello stesso modo. Quindi il principio di correzione dell'idrocele prevede che si faccia un'incisione a livello scrutale e si esteriorizzi la fodera che contiene il liquido insieme al testicolo e questa fodera deve essere tagliata, deve essere incisa, svuotata e resecata in modo da togliere lo spazio all'interno del quale il liquido si può rialloggiare. Dopodiché il testicolo viene ricoperto dei tessuti dartoici, come vengono chiamati, quindi ulteriori strati all'interno dello scroto che lo proteggeranno ugualmente senza che questo costituisca un problema per la salute del testicolo. È un intervento che viene eseguito con un'anestesia spinale in regime di The Hospital, generalmente a seconda del volume di liquido che viene evacuato, si decide di passare una notte in osservazione oppure si viene anche dimessi in giornata, questo perché maggiore è la dimensione dell'idrocele, più alte sono le probabilità di avere un ematoma nei giorni successivi. Quindi per idrocele molto grandi noi preferiamo lasciare un drenaggio all'interno della borsa scrotale che viene tenuto per la notte dopo l'intervento, l'indomani mattina viene tolto il drenaggio, si medica e il paziente viene dimesso. È importante rispettare un periodo di riposo a casa di almeno 7-10 giorni proprio per i rischi legati al potenziale ematoma, al rischio di infezione, quindi e al dolore che indubbiamente ci può essere se noi abbiamo un'attività troppo intensa nei primi giorni. Quindi riposo per una settimana circa con utilizzo di ghiaccio antidolorifici e antibiotici per i primi giorni, ma con questo intervento siamo sicuri di ripristinare la morfologia e il volume dello scroto senza avere il rischio di avere delle recidive in futuro.